Musica Vorrei ringraziare a chi ha organizzato tutto questo festival perché è una sfida incredibile già per l'organizzazione tanti musicisti tutti in un posto riuniti con tantissime belle sale, belli luoghi da fare musica da camera di trovarsi tra amici, trovarsi di nuovi amici farsi di nuovi amici, fare musica insieme, fare esperienze non solo musicali ma anche umane penso che una cosa più grande di questo non esiste specialmente in una città così bella come Mantua che offre tutte queste possibilità di fare questi grandi concerti Devo anche ringraziare molto a Carlo Fabiano che mi ha chiamato e mi ha chiesto se avevo tempo e voglia col mio complesso di venire qua a Mantua e sono molto 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 contento che siamo riusciti a venire e che ci ha chiamato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti